Sì, guarda che ti fa le cara, no? Allora, voglio solo mangiare la faccia, no in testa, sulle braccia, sulle faccia, sulle guanciote, le mannine. No, in testa, ecco le guanciote, i piedi, 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 Le tette, si. Quello è il padre che mi insegna. Padre, padre. Padre deficiente. Almeno ci sono le prove. Chi ti fa a te, no? Oggi ha iniziato a posolare laendsanza. Chi chi? Chi chi chi? Chi 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 chi? Non parlo alla alla. È alla €9. . Araro April 30, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.